L'unico lato positivo direi del Covid è che ci ha dato la possibilità e anche forse il coraggio di poter compiere scelte che altrimenti saremmo stati un po' resti a compiere. Anticipo dell'80% del trattamento di fine rapporto fin qui maturato, una decisione importante quella della storica azienda Busatti di Enghiari, famosa in tutto il mondo per la qualità dei suoi tessuti, una decisione maturata in seguito all'emergenza coronavirus. Noi accantoniamo fin da sempre TFR, i trattamenti di fine rapporto era un'usanza messa in campo già dalla generazione precedente e quindi da mio padre e da mia zia. Noi abbiamo continuato in questo progetto e di conseguenza abbiamo la possibilità di utilizzare questo denaro, queste somme per poterli destinare solo all'ambito di liquidazione dei dipendenti. Non abbiamo liquidato i dipendenti ma abbiamo dato la disponibilità a chi lo volesse di poter avere fino all'80%. Siamo arrivati a un accordo con l'istituto assicurativo e di conseguenza molti dei nostri collaboratori sono stati felici di poter avere questa opportunità. Effettivamente è stato un progetto che è potuto essere realizzato solo dovuto a questo periodo molto difficile che però è stato importante anche in relazione a dei tanti progetti che abbiamo portato avanti in azienda e questo è solo uno di quelli. Comunque può apportare un beneficio diretto a tutte le famiglie del comparto del territorio che lavorano presso di noi. La proposta dell'azienda ha incontrato l'adesione della stragrande maggioranza dei lavoratori che hanno ricevuto i bonifici proprio in questi giorni. Noi siamo due società che si intersecano, stessa compagine sociale, stesse situazioni, stessa amministrazione e siamo intorno a una ventina. Comunque trovarsi di colpo in uno stipendio normale che sono intorno ai 1000-1500, 20-25 mila euro tutti assieme in più possono sicuramente fare piacere e aprire la prospettiva a tanti progetti che si tenevano nel cassetto. Io sono in questa azienda da 17 anni, quindi ormai per me è una seconda famiglia. Sono stati onesti anche nell'anticiparci la cassa integrazione nei momenti del covid. Quindi ora piano piano penseremo a come investire questi soldi e lasciarli anche per l'eventualità, visto i figli che vogliono studiare. Perché ho un figlio grande di 16 anni che fra qualche anno dovrà scegliere se continuare con l'università. E anche l'università è un buon costo e quindi sicuramente verranno investiti sul loro futuro. Grazie a tutti.